bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo verissimo video oggi siamo su siamo su worldface ragazzi tanto aspettate che metto a posto per vederci meglio io se no da una dai e ragazzi siamo su worldface un gioco consigliatemi la quale farò anche credo con due miei amici e un altro youtuber quindi se mi inquattro e ragazzi vi dico di supportare la serie quindi ce l'ho anche per il prossimo episodio perchè è bellissimo questo gioco per essere un brusher game solo che non l'ho ancora provato quindi speriamo bene allora ok abbiamo appena cominciato a giocare tanto uno si è già buggato banni da attenzione far fight bannet ovviamente secondo me è per hack dai 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 cute 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 ец ecco questa è una cosa bruttissima come perchè come fai a cambiare il coso spettacolo non riesco non lo sai comandi non so come scivolata la mia prima chi che bello sto guardando questo bravo zio cosa che fai ok adesso c'ho il sniper non riesco guarda questo guardalo che spara all'impazzata guardalo ehi vieni qua oh zio vuole lanciare granate anche la g secondo me eccolo il granaio ahhh perchè l'ho tenuta troppo shish andare madafucker uuuu 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 abbiamo vinto stracciati eccomi qua eheh adesso siamo noi i cattivi ooo siamo i cattivi che uh che bella la mappetta non l'avevo vista è fatto veramente bene questo gioco mi piace un sacco ma che stronzo è qua è qua l'avevo vista andare di qua uuuu adesso t'ammazzo io ah no l'ho già ucciso purtroppo eheh purtroppo c'è stato shish che l'ha ucciso shish ahhh vedi mo eheh vieni qua andiamo amico eheh non ho potuto trovare un posto e quindi mi sono alloggiato lì eheh ma allora ma siete uno dietro l'altro oh hello mother fucker eheh non c'è verso non c'è verso niente nessuno vuole vabbè intanto lì c'è scritto iiii arrivo arrivo io arrivo io arrivo io ma allora siete dappertutto oh passate che per per i muri dai vengo io qua vieni su facciamo lo sniper dai sacco di patate raga uuuu ne ho uccisi due in un colpo come ho fatto ma son dappertutto aspetta aspetta ecco posso ahaha quello che mi ha aiutato prima guardalo un po' più fiero si è messo qui sotto proprio da un vero camperone ma sei un figo sei stato ucciso da un noob amico fatti vedere perché leggermente fai schifo stai perso ucciso da un noob quindi un'umiliazione proprio l'hanno massacrato bellissima questa roba ho sparato lì impazzata oh aspetta i calmi d'accordo ragazzi spero il video che vi sia piaciuto commentate lasciate un commento mi piace iscrivetevi iscrivetevi che sono altri giochi da fare e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video bella ragazzi good luck click